Buonasera a tutti e benvenuti. Un saluto a tutte le autorità presenti, complimenti al sindaco di Lanciano, molti complimenti. Io sono Carlo Ricci e sono qui per spiegarvi la ragione di questo evento. Due anni fa con degli amici e grazie alla energia di Giovanni di Fonso abbiamo costituito un'associazione, si chiama RATI, Rete degli Abruzzesi per il talento e l'innovazione. Abbiamo costituito questa associazione perché la nostra regione è un esportatore di giovani talenti. Gran parte dei ragazzi che si qualificano nella nostra regione poi vanno fuori a trovare l'occasione per mettersi in gioco, per lavorare e per crescere professionalmente. Esportiamo talenti ma ne importiamo pochissimi. Il bilancio per questa che in fondo è una risorsa altamente strategica, il bilancio della nostra regione è in rosso pieno e le ragioni per questa situazione sono abbastanza semplici. In questi anni ce l'hanno spiegato i tanti ragazzi abruzzesi che vivono all'estero e che ci hanno detto l'Abruzzo non è attrattivo, non è attrattivo per gente come noi e questo è un problema ma non è un problema di questi ragazzi perché in fondo poi andare a fare esperienza fuori, a farsi strada in giro per il mondo per chi ne ha la forza può essere pure una cosa che ti dà tanto. È un problema per noi perché che terra è? Una terra che non è capace di offrire opportunità di lavoro a un numero sufficiente di giovani e dei suoi giovani più qualificati? La risposta è abbastanza semplice, è una terra che fa poca ricerca e sviluppo perché in fondo questo è il processo in cui si impiega questo tipo di risorsa altamente strategica ma dove non si fa ricerca e sviluppo non si fa innovazione e allora l'altra domanda che viene fuori è che comunità è una comunità che non investe in ricerca e innovazione? È una comunità che probabilmente è povera di idee, questo è sicuro, è una comunità che non ha voglia di pensare al proprio futuro, è una comunità che non ha fiducia in se stessa, è una comunità che invecchia. Beh noi non vogliamo essere una comunità come questa e grazie a Dio in questi giorni lanciando questa campagna stiamo scoprendo che sono tantissime le persone che la pensano in questo modo e sono tantissime anche le organizzazioni. Ecco da queste considerazioni è nata l'idea della notte dei ricercatori. La notte dei ricercatori è un'iniziativa della Commissione europea che è stata concepita per sensibilizzare il grande pubblico ai temi della scienza e delle professioni della ricerca. Si svolge ogni anno a settembre e si svolge in più di 300 città del nostro continente coinvolgendo con eventi anche spettacolari migliaia e migliaia di cittadini europei. Di solito viene organizzata in quei centri urbani dove la ricerca è presente, dove esistono le eccellenze. Ecco per noi la notte dei ricercatori è invece il simbolo di un bisogno di ricominciare a fare ricerca, di un bisogno di ricominciare a investire nei giovani talenti. È il simbolo del patto della ricerca e il patto per la ricerca è la campagna che vogliamo lanciare per sensibilizzare la nostra comunità a ricominciare a investire in questo campo. È una campagna che si propone degli obiettivi concreti, è una campagna che si propone di durare un anno fino a settembre del 2014, appunto quando ci sarà la notte dei ricercatori e i suoi obiettivi, ve li dico molto sinteticamente, sono quelli di finanziare almeno 100 giovani ricercatori per fare studi o progetti di ricerca nel nostro territorio sulle questioni cruciali per lo sviluppo del nostro territorio e organizzare laboratori aperti nelle scuole dedicate agli studenti del terzo anno per farli partecipare a queste attività, realizzare una serie di iniziative per mettere in rete questi progetti di ricerca, per farli diventare veramente un patrimonio e noi ci auguriamo anche un'abitudine della nostra comunità e infine per promuovere un calendario di eventi come quello di stasera, ad alto contenuto culturale, spettacolare ed artistico, dove si possa parlare di talento ma lo si possa anche toccare direttamente. È chiaro che si tratta di obiettivi molto ambiziosi, ma si tratta di obiettivi che ci possiamo proporre perché non siamo soli. Già in questa prima fase della nostra iniziativa abbiamo avuto l'adesione di moltissimi soggetti del nostro territorio ed è grazie al loro sostegno materiale e io spero che anche voi contribuirete stasera a questo sostegno materiale, vi abbiamo messo delle buste dove ognuno può dare il suo contributo, questa lo dico fra parentesi ma ne abbiamo realmente bisogno. Grazie al loro sostegno materiale abbiamo potuto organizzare l'evento di oggi e gli eventi che lo hanno preceduto. Mi sembra giusto pertanto prendere qualche minuto qui e adesso per riconoscerli, questi soggetti, questi sostenitori, questi partner e ringraziarli infinitamente. Quindi un ringraziamento particolare lo voglio fare all'Associazione degli Enti Locali del San Groventino, qui rappresentata dal suo presidente Nicola Cicchitti, sindaco di Atessa e a tutti i sindaci del nostro territorio. Grazie alla Banca del Credito Cooperativo San Gro Tiatina, grazie alla Camera di Commercio di Chieti, al Consorzio Citra, alla Ditta Di Mascio, alla IMM, al Polo Innovazione Automotive, al Galma Iella Verde, all'Azienda Ferroviaria Sangritana, all'Istituto Alberghiero di Villa Santa Maria e agli scout del CNJ di Lanciano. Spero di averlo pronunciato correttamente. Un grazie particolare e tanti auguri a Claudio Senerchia che ci ha aiutato con le riprese video ed è a casa vittima di un grave incidente. Ancora grazie agli artisti che volontariamente ci sostengono con il loro lavoro anche questa sera. Lo sceneggiatore Marco Varello, il duo Maclet composto da Sabrina Dente e Anna Maria Garibaldi, la compagnia di danza di Antonio Minini che avete visto all'opera, l'Orchestra delle Fonderie Sonore, l'Associazione Do Centrale e quella Interno B, l'attore Domenico Galasso e la regista Anna Maria Talone. Ancora grazie ad Alessandro Dinisio. Le immagini strepitose dell'Abruzzo che avete visto all'inizio sono state realizzate grazie ad un concorso dedicato alla Notte dei Ricercatori che la sua web community ha organizzato in tre settimane. Questa web community si chiama Paisaggi d'Abruzzo e rappresenta un caso in tutta l'Italia. Ha un numero a centinaia di migliaia di aderenti e ha una capacità di mobilitare le persone veramente straordinaria. A mio avviso è un buon esempio di come il talento e l'innovazione possono essere usati per valorizzare anche la nostra identità e le nostre diversità. Grazie ancora a Loris Di Pietrantonio e il nostro socio che con la sua lista di nozze ha finanziato le prime tre ricerche del nostro ciclo che speriamo inaugurino un lungo ciclo. E al professor Antonini dell'Università dell'Aquila che insieme ad Attilio Piattelli di Sun City hanno sostenuto queste ricerche insieme ad altre cinque. Quindi già partiamo oggi ma abbiamo già una decina di ricerche che sono in campo e alcune sono state terminate. Grazie per il loro sostegno alla regione Abruzzo e alla provincia di Chieti, all'Università d'Annunzio di Chieti, all'Università degli Studi di Teramo, al Consorzio Mario Negri Sud e alla Confindustria di Chieti. E infine grazie ai nostri illustri ospiti che vi verranno fra poco presentati. Sono venuti da lontano a testimoniarci il loro sostegno e noi gliene siamo infinitamente grati. Dunque, già da qui potete vedere che la notte dei ricercatori è il simbolo di una sfida per noi, è il simbolo di una sfida lanciata da un territorio, non soltanto da poche persone, è un territorio che non vuole rimanere indietro. È anche la meta di un viaggio, un viaggio che comincia qui stasera e quindi il dado è tratto e non si torna più indietro. Grazie.